Dalla ricerca di oggi sono emersi dei risultati interessanti. È emersa che la certificazione ambientale è un aiuto per la competitività delle aziende, un aiuto per la competitività non solo in Italia ma soprattutto sui mercati internazionali. Le aziende che si certificano di fatto sono sia le piccole aziende che le grandi aziende. È emerso che le piccole aziende tendenzialmente prediligono certificazioni di prodotto mentre le grandi aziende tendenzialmente prediligono certificazioni di sistema. I vantaggi derivanti dalla certificazione sono non solo la possibilità di aprire nuovi mercati e il Green Public Procurement ma anche facilitazioni sui teleburocratici, aumenti dei quotidi di mercato, reputazione, innovazione. Quindi la certificazione ambientale fa bene a 360 gradi. Dalla ricerca è emersa che il campione di aziende analizzate nel quinquennio 2009-2013 hanno ottenuto performance positive rispetto al mercato, rispetto ai competitor non certificati sia da un punto di vista di fatturato che da un punto di vista di aumento dell'occupazione, quindi aumento delle persone impiegate. Questo per dire che la certificazione non ha solo dei benefici diretti sulle aziende perché aumentano le performance e sul cliente finale perché capisce che cosa compra ma anche ha dei benefici indiretti quali per esempio l'aumento dell'occupazione. è emerso dal punto di vista del cliente finale che c'è una frammentazione e un'eterogeneità di certificazioni che talvolta può creare un po' di confusione, un motivo in più per utilizzare solamente bollini certificati e questo è uno dei contributi che ha portato a credito, quindi utilizzare solamente percorsi verso la sostenibilità che siano certificati e supportati da standard internazionali. Questo è l'unico modo in cui da un lato il cliente finale è sicuro di quello che sta comprando, dall'altro l'azienda non ha timore di venire fraintesa nel momento in cui comunica le performance ambientali.